E adesso, sono pronti per reggirci il primo gruppo finalista della categoria Under. Sono già pronti, wow! Si sono già pronti, ma là! Ci sono i news! Siete viscono con Ave Maria Due Voci e Piava, si mette da loro direttore del famoso Rosario Sacco. Un applauso! Aspettiamo un attimo il gruppo delle calze. Guarda, ragazzi! E la calza è ancora in! Grazie! 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 Tutto bene? Grazie! 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 Grazie.